È una lista competitiva, aperta, società civile, rappresentanze delle professioni, quindi una bella, bella lista, libera, senza clientele, però con l'organizzazione di Forza Italia Storica e con un grande contributo dei militanti. Guardate il programma, il programma significa grande rilancio delle infrastrutture, grande attenzione al sociale, con un programma diretto sulla persona per la salute del cittadino, che è una cosa fondamentale, e poi daremo dei numeri importanti sull'occupazione giovanile, su come si potrà investire e creare nuova occupazione.